buongiorno questa è una piccola guida all'esperienza della data meditation quello che succederà è che i dati che avete raccolto con cui vi siete espressi nella giornata precedente a quella di ogni rituale verranno trasformati in suoni per la verità compariranno anche a video questi dati sul vostro dispositivo cellulare o sul vostro computer però abbiamo pensato che la data meditation come tutte le meditazioni è e dovrebbe essere un momento intimo che si possa fare anche ad occhi chiusi e quindi abbiamo pensato di trasformare tutti questi dati in suoni ricordatevi una cosa che sull'orecchio sinistro sentirete i vostri dati mentre sull'orecchio destro sentirete i dati di un'altra persona casuale che all'inizio dell'esperienza neanche conoscete e che verrà scelta per voi ecco è importante quindi quando indostate le cuffie no perché noi consigliamo di vivere questa esperienza in cuffia che controllate bene che effettivamente l'orecchio sinistro delle cuffie sia sull'orecchio sinistro della vostra testa e l'orecchio destro delle cuffie sia effettivamente sull'orecchio destro di solito c'è scritto sulle cuffie controllatelo mi raccomando perché è importante adesso vorremmo farvi una piccola guida ai suoni che sentirete perché anche questo è importante con tutta probabilità mano mano che ripeterete questa esperienza i suoni imparerete a riconoscerli molto facilmente ma visto che questa esperienza è si estende su un tempo limitato abbiamo pensato che una piccola guida potrebbe essere molto utile e allora cominciamo vedrete che vi verranno poste delle domande no la prima di queste domande è dove vi trovate e se ci pensate è molto importante sapere dove siete no per tentare di comprendere e di far comprendere ad altri il vostro rapporto sull'ambiente questa domanda inizia iniziale prevede che voi scegliate da varie opzioni quando scegliete scegliete quella che assomiglia di più alla vostra attuale condizione durante l'esperienza queste condizioni possibili ed elencate nel menu a tendina che si attiva quando rispondete alla domanda vengono trasformate in un'ambientazione sonora come a settare a impostare un contesto per esempio quando siete a casa sentirete questo suono invece se siete in ufficio sentirete questo suono se siete a scuola o all'università o comunque in un qualche istituto di istruzione sentirete questo suono qualora vi trovaste in un ospedale o in un altro o in un pronto soccorso o in una clinica o uno studio medico spero per voi di no ma capita sentirete quest'altro suono se siete in giro per negozi a fare shopping in un centro commerciale o in uno degli altri luoghi del commercio sentirete questo suono se per caso vi trovaste in un albergo in un bed and breakfast o in un altro luogo dell'ospitalità sentirete questo suono se vi trovate invece in un luogo dei servizi che si trovano nelle città o nei paesi per esempio la posta le banche o un altro luogo di servizi sentirete questo suono se invece siete andati in un luogo della cultura per esempio un museo un evento a un concerto sentirete questo suono se invece siete andati a fare bisboccia o la scusate il romano o un'altra forma di vita notturna sentirete questo suono se siete su un mezzo pubblico sentirete questo suono invece se siete su un mezzo privato come la vostra macchina un motorino o qualcos'altro sentirete questo suono se vi trovate in una stazione un aeroporto un terminal degli autobus sentirete questo suono se state passeggiando per una strada o una piazza o un altro luogo pubblico della città sentirete questo suono se per esempio vi foste recati ad un parco o un altro luogo della natura urbana anche una villa se vi trovaste invece nella ruralità quindi non nella città non all'interno della città ma ad esempio in campagna in montagna o qualche altro luogo non urbano della ruralità sentireste questo suono e infine se vi doveste trovare in un luogo in cui c'è acqua per esempio un fiume al mare o nelle vicinanze di un lago sentireste questo suono ecco questi suoni sono importanti perché vi aiuteranno durante l'esperienza a capire dove siete stati durante la generazione dei vostri dati e dove è stato il vostro altro la persona che è stata assegnata a voi e che scoprirete l'ultimo giorno dell'esperienza totale proseguendo per le domande le altre due domande non testuali che vi vengono poste nell'interfaccia stanno a indicare quanto siete consapevoli in quell'istante in cui generate il dato del vostro ambiente quanto quanta parte della vostra attenzione va verso l'ambiente e questo è un parametro molto importante perché vuol dire che in quel momento siete più o meno attenti all'ambiente che vi circonda che sia in città o che sia in campagna o in un altro luogo e questa è una misura molto importante che vi chiediamo ecco l'altro dato che ci viene accoppiato a questo primo dato l'attenzione all'ambiente che vi circonda è un senso di comfort o discomfort e questo forse merita una piccola spiegazione perché abbiamo deciso in questa particolare esperienza di porre una domanda come questa perché ci interessava molto sapere se vi sentivate a vostro agio con il vostro essere nell'ambiente per esempio per quanto riguarda voi stessi sentite che state consumando troppa energia che state inquinando o potrebbe essere per il comportamento che vedete in qualcun altro per la strada che magari non ricicla l'immondizia correttamente o che inquina o magari vi potreste sentire a vostro completo agio perché qualcuno sta facendo qualcosa di positivo per l'ambiente e lo speriamo tanto ecco questi due dati vengono combinati il primo dato è un volume quindi sentirete un suono che vi dirò tra un attimo più o meno forte a più o a meno volume a volume minimo eventualmente non sentendolo del tutto se foste in una condizione in cui l'ambiente che vi circonda è proprio fuori dalla vostra percezione dalla vostra attenzione perché succede mai? speriamo che non succeda ma a volte capita per esempio se state ficcati con la faccia dentro un monitor a volte accade che il vostro ambiente circostante quasi scompaia e quindi in questo caso i suoni che vi farò ascoltare tra poco praticamente potrebbe essere che non li sentirete invece quando la vostra massima attenzione sarà dedicata all'ambiente sentirete questi suoni molto forti molto forti non vi preoccupate non vi faremo diventare sordi però sentirete li sentirete nettamente e quindi ci sarà una scala di volumi dal muto dal silenzioso al distintamente udibile e poi c'è il suono del comfort e del discomfort e di tutte le situazioni intermedie che si potrebbero verificare quando sarete quando avrete espresso una condizione di discomfort sentirete maggiormente questo suono sentite è un suono abbastanza fastidioso a indicare il vostro discomfort quando invece sentirete comfort quindi esprimerete comfort sentirete quest'altro suono ecco vedete sono quasi delle campane un po' più allegre un po' più allegre e gioiose ovviamente quando avrete espresso una condizione intermedia li sentirete un po' tutti e due quindi questi suoni genereranno un remix di di ambe due le sonorità per esempio se ci fosse un momento in cui vi esprimerete con la barra comfort discomfort esattamente al centro questo è il suono che sentirete e vedete i due suoni sono mixati allo stesso volume e per quanto riguarda le due domande testuali cosa state facendo e lascia un messaggio che tra l'altro è del tutto opzionale vi lasciamo la sorpresa perché ci saranno dei suoni un po' più particolari che tra l'altro non sono neanche in grado di riprodurveli in un modo comprensibile in questo istante perché lo scoprirete ascoltandoli ascoltandoli perché è un suono generato dalla da una piccola piccola intelligenza artificiale e il suono che genera dipenderà completamente da quello che voi scriverete quindi non sapendo che cosa scriverete non posso neanche farvi sentire il suono però una cosa ve la posso dire ed è questa che se voi e il vostro altro scriverete dei testi in quelle due caselle che si assomigliano per qualche modo per esempio che usano le stesse parole chiave a un'altra condizione simile anche i due suoni si assomiglieranno ecco questo è quello che possiamo dirvi per adesso naturalmente ci sarebbero discorsi importantissimi da fare su questi suoni sulla conversione dei dati in suoni sul fatto di poterli anche vedere come vi ricordo che potete anche fare se lo desiderate i dati saranno mostrati anche sullo schermo ecco i discorsi che sarebbero da fare sono virtualmente infiniti spero che potremmo farlo insieme presto ciao